Bellissima e crudele, calcolatrice e appassionata, Popea Sabina voleva essere ricordata per sempre e attraverso la sua stessa storia diventare immortale. Popea è un esempio di come la seduzione dia potere. Abbandonò infatti il suo precedente marito e si avvicinò all'imperatore Nerone. Lei rimane incinta di Nerone e lui la uccide, provocando non solo la perdita del bambino, ma anche la sua morte. Grazie a tutti!